ariete giornata di palestra sarà una giornata vitale e dinamica restituire un po di tonicità al tuo corpo e la scelta migliore toro grande sintonia con il partner anche se non mancherà un filo di nervosismo venere e dispettosa ma se in ottima forma e al lavoro tutto procede per il meglio gemelli il tuo successo di oggi dipenderà proprio dalle persone che hai accanto e da quelle che sceglierai di tenere per te cancro venere ti invita a misurare le parole ci metterai poco a passare dalla parte del torto e dovrai anche capire come recuperare rapporto con il partner leone mercurio generoso come non mai dovrai approfittarne ti donerà dolcezza pazienza e capacità di ascolto vergine dov'è finito il tuo fiuto negli affari oggi appari confuso o forse non è il giorno migliore per parlare di lavoro e progetti bilancia forse hai esagerato con lo sport o stai esagerando nel non fare attività fisica certo è che oggi i tuoi muscoli ne risentiranno passerà in fretta non temere scorpione il desiderio e la seduzione ti salveranno prenderai il meglio di ogni tua scelta con venere dalla tua domani forse ne pagherai il conto sagittario venere regina di cuori non sarà forse una giornata eccezionale e memorabile ma di certo sarà una giornata romantica capricorno marte ti rende combattivo e determinato più del solito al lavoro dovrai difendere con le unghie con i denti la tua serietà professionale acquario la tua capacità e la tua caparbietà avranno modo di mettersi alla prova su un problema lavorativo da cui potrebbe dipendere il tuo futuro professionale pesci grandi energie e quel fascine inconsapevole oggi porterà fortuna ai single